Quello che avete appena visto è il sistema X-Lock di Bosch, è un sistema autoserrante a scatto che permette di cambiare il disco della smerigliatrice in pochi secondi senza l'utilizzo di utensili e come avete visto per una questione di sicurezza ho rimosso la batteria, nonostante ciò anche con la rimozione della batteria la sostituzione del disco è 5 volte più veloce di tutte le smerigliatrici con il sistema a chiave con ghiera. Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio canale, oggi vi parlo di Bosch Professional e di questa smerigliatrice con motore brushless ed è alimentata da una batteria da 18 volt a 5.5 ampere ora. La nuova generazione di batterie Procore che unita alle prestazioni del motore brushless fanno sì che questa smerigliatrice angolare a batteria ha le stesse prestazioni di una smerigliatrice a filo di 1500 watt, quindi in questo modo uniamo i pregi di entrambe le tipologie di alimentazione. Con la batteria da 5.5 ampere ora questa smerigliatrice pesa 3 kg e 300 grammi e rispetto all'equivalente utensile a filo di 1500 watt siamo circa 500 grammi in più. 500 grammi però che non vanificano il grande pregio che è quello di non essere legati alla rete elettrica. Inoltre la smerigliatrice come vedete risulta molto ben bilanciata e questo ci aiuta a non affaticarci nei lavori lunghi. Monta un disco da 125 mm, il numero di giri a vuoto è regolabile da 3400 a 9800 giri al minuto. Inizialmente solo su tre livelli ma grazie all'applicazione Bosch che comunica con la smerigliatrice via bluetooth è possibile sbloccare fino a 6 livelli di velocità e personalizzare ogni livello con la velocità desiderata in modo da adattare questa smerigliatrice ad ogni tipo di professione. La cuffia di protezione è autoserrante e si sposta senza l'uso di attrezzi. L'imbugnatura supplementare può essere installata sia a destra che a sinistra, manca però la posizione centrale. L'imbugnatura è molto grande e ha un cuscinetto, questo di colore rosso, per smorzare le vibrazioni. Il grosso motore brushless è alloggiato in questo punto della macchina. Il corpo dell'utensile poi stringe verso la zona dell'imbugnatura che risulta molto comoda e lascia tanto spazio all'utilizzo di guanti anche di grosse dimensioni. Tutto quello che vedete di nero è una gomma antiscivolo per garantire un maggiore grip. Il tasto di accensione è posto sulla sinistra dell'utensile e risulta leggermente scomodo quando si deve impugnare la smerigliatrice con la mano sinistra. Posizione obbligata per dar spazio al grande pannello di controllo che ci dà informazioni importanti sulla carica della batteria, la velocità selezionata ed eventuali sistemi di sicurezza intervenuti nel momento dell'utilizzo di questo elettro utensile. Per quanto riguarda questi sistemi di sicurezza abbiamo il kickback control che protegge l'utente in caso di contraccolpo dovuto al blocco del disco dentro il pezzo da lavorare, il drop control che spegne la macchina in caso di caduta o urti contro altri oggetti. Inoltre questa macchina dispone di un avvio graduale del disco, di un sistema che blocca immediatamente il disco quando mettiamo l'interruttore su off, di un sistema che blocca il riavvio accidentale, se abbiamo l'interruttore in on quando inseriamo la batteria, vedete non è partito, e ce lo sta segnalando con questo led di colore rosso. Inoltre ai classici sistemi di sovraccarico e surriscaldamento sia della batteria che del motore che quando attivi vengono evidenziati dal pannello di controllo. E' arrivato il momento di indossare i dispositivi di protezione individuale e di mettere finalmente alla prova questa smirigliatrice. Andiamo! Elevate prestazioni, versatilità e massima mobilità e sistemi di sicurezza ai massimi livelli. Seguite il canale perché farò altri video dove ci saranno le prove di taglio a durata reale e dove effettuerò altre prove con altri tipi di dischi su altri tipi di materiali. Ciao!